ciao come stai? io bene grazie stressato e perché hai amareggiato? hai litigato sul lavoro è normale capita al giorno d'oggi ma se per questo anche in passato è sempre stata così il confronto con le altre persone il confronto con il nostro prossimo è questo e non c'è tanto da stupirsi ma io sono qui per farti rilassare sono qui per farti rilassare sì per me è un piacere farti rilassare è un grande piacere straiati e ascoltami bene ascolta bene quello che ti sto per dire se riesci non chiedere gli occhi e guarda ciò che adesso farò per te per il tuo bene, per il tuo relax osserva bene osserva bene ho qui una scatola di fiammiferi una scatola di fiammiferi osserva bene osserva bene questa scatola osserva bene questa scatola questa piccola scatolina di fiammiferi no l'inverno è ancora lontano ma questi fiammiferi non hanno lo scappo di di riscaldare assolutamente no se ti possono riscaldare il tuo cuore sicuramente sì ma non il tuo corpo sotto questo punto di vista sicuramente comincio con le strassi un fiammifer rimani stagliato ti prego rimani stagliato non ti muo' filters osserva questo osservalo guarda com'è la fiamma corre Ti stendi le gambe, respira lentamente, respira lentamente. Pensa alle cose più belle di questa vita, pensa al mare, a quanto è bello il mare, guardalo bene. Osserva bene. Osserva bene questa fiammella. Osservala. La vedi? Guardala bene. Non chiudere gli occhi per favore. Cerca di non chiudere gli occhi. A suo interno c'è della cera rossa, il colore della passione. Sì, lo so. Lo so che non riesci a tenere gli occhi aperti. Lo so. Ma io questa candela l'ho accesa per te. Questa candela è profumata. Questa piccola candela è profumata. Satirosa è profumata e ho paura di spegnerla perché l'ho accesa per te. l'ho accesa perché questa è una candela magica, ha un profumo inebriante, ha un profumo speciale. Sai che cosa mi dispiace? Che non abbia una fiamma un pochettino più alta. Una bella fiamma lunga, ma potrebbe anche darti fastidio. Una fiamma lunga, dispersiva. Questa invece è piccola, è molto piccola. E per questa sera ti accompagnerà, ti accompagnerà nel mondo dei sogni. ti accompagnerà nel benessere, ti accompagnerà lungo la riva del mare. ti accompagnerà su verso la montagna, su per un sentiero, verso un sentiero montuoso. e arriverai in cima alla montagna e sarai felice. quando sarai su in cima, quando sarai arrivato su in alto, sarai felice. e tutti i tuoi pensieri non ci saranno più. puoi starne certo, puoi starne certo, non ci saranno più. e quando un fiammifero finisce la sua vita. ce n'è subito un altro, che prende il suo posto. un fiammifero un fiammifero annulla l'altro un fiammifero fa risplendere l'altro fa risplendere l'altro con questo suo colore rosso intenso il colore della vita il colore della passione guardami negli occhi guardami negli occhi segui il mio sguardo guardami negli occhi guardami negli occhi segui il mio sguardo non ti addormentare adesso segui il mio sguardo segui il mio sguardo guardami guardami negli occhi guardami negli occhi e ti addormenterai cerca di guardare i miei occhi cerca di guardare i miei occhi stai già stai già tormento stai già tormento non mi senti più stai già tormento stai già stai già Grazie a tutti.